Musica 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 Una vittoria a pochi secondi dalla fine, quest'anno anche una vittoria in rimonta a pochissimi minuti dalla fine una vittoria che però ha un peso specifico importantissimo, no? Soprattutto dopo il pareggio casalingo che aveva lasciato un po' di amare in bocca Sì, noi ci potevamo riscattare del pareggio in casa però abbiamo trovato una signora squadra che c'è di grossi giocatori e si è visto però è chiaro, se oggi doveva vincere una squadra, doveva vincere noi è stato un gioco solo solo di una porta con tutto il rispetto, va bene che loro hanno tirato hanno fatto due gol però noi abbiamo macinato il gioco abbiamo avuto tante occasioni non c'era, se oggi il pareggio, anche il pareggio per noi era stretto, come è stata la partita merito loro, ognuno si hanno messo il modo suo di giocare però era un peccato per i ragazzi oggi qual è stato secondo te la cosa per la quale i ragazzi sono stati bravi? da fuori è sembrato davvero una squadra che comunque non ha mai smesso di crederci è rimasta sempre lucida, tranquilla aspettare il momento buono questi sono i giocatori che abbiamo una bella rosa una rosa di giocatori esperti che in questo momento contano questi giocatori questi giocatori non perdono mai la testa e poi è chiaro anche loro hanno il diritto di sbagliare però sempre con quella voglia il nostro gruppo è un gruppo che lavora tanto durante la settimana io dico che la partita diventa loro non giocano a 100% perché c'è volta la settimana loro allenano molto bene e si vede il ritmo il ritmo nostro è un ritmo alto un ritmo che si gioca mi piace è un gruppo che mi piace è chiaro che c'è pure il lavoro di altre squadre di fronte non possiamo pensare che c'è solo noi in campo però complimenti e complimenti per la classifica abbiamo allungato un scontro diretto che è un scontro diretto quindi oggi è un gioco è una partita non di tre punti era di sei punti e il primo scontro abbiamo preso è il primo del vertice il primo scontro diretto è a noi a Lasca